Cari amici dei Cursi della Memoria, cari amanti della Sardegna, ci troviamo alla Sinara, un posto spettacolare. Oggi, in questo mese di April, lo è ancora di più perché la presenza umana oggi praticamente è quasi scarsa, sia a livello assoluto, perché comunque gente ce n'è poca a prescindere, e sia a livello relativo, ancora non sono iniziate le grandi danze turistiche. Ma, amici dei Cursi della Memoria, in questo territorio spettacolare che, sì è un'isola, ma ricordiamoci che la propaggine priori dell'Asinara dista da Stintino a un tiro di schioppo, e c'è, se non ricordo male, l'isola Piana che le divide, ma comunque è un tiro di schioppo. Ebbene, il Neolitico in Sardegna è qui. C'è una Domus de Janas, anche qui. La chiamano Domus de Janas di Campu Perdue. Eccola qua, questo è l'ingresso che verosimilmente doveva dare la sua luce verso est, e noi proveremo a entrare all'interno di questa straordinaria sepoltura, perché illuminando le varie stanze vi assicuro che è spettacolare. Da sottolineare due scroci, una che è questa, l'altra è praticamente questa, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, non sono coeva alla sepoltura. E noi entreremo adesso qui dentro e diremo qualcosina di questa spettacolare sepoltura. Siamo entrati anche in questa meraviglia del Neolitico della Sardegna. Dicevo all'inizio del video, una terra praticamente semi-incontaminata, qui si avverte poco la presenza dell'uomo. E' chiaro che comunque l'Asinara è conosciuto per tanti altri aspetti, non archeologici, ma comunque oggi stiamo parlando di questa Domus de Janas di Campu Perdue. Allora, oggi siamo riusciti con svariate luci a illuminare l'ambiente di destra, i due ambienti di rimpetto all'ingresso che sono questo qua. Ok, io mi avvicino e cercherò di inquadrare sia il soffitto sia la stanza più in fondo. Questo ambiente qui non saprei come definirlo perché è chiaro che qui il piano di Calpostio potrebbe essere leggermente più basso. Potrebbe essere leggermente più basso. Veniamo all'altro qui di sinistra. straordinario, straordinario, ma non male che oggi abbiamo tutte queste luci perché fortunatamente con le luci si riesce a godere meglio di questa straordinaria sepoltura. E poi l'ambiente di sinistra, eccola qua. Spettacolare, guardate la rifinitura che mi hanno fatto notare appena siamo entrati. Sia alla destra e sia alla sinistra, ovviamente quando siamo all'interno, dell'ingresso. Da qualche parte qui vicino c'è un altro anfratto che potrebbe essere una domusegiana se in realtà è molto difficile entrare. Di sicuro è un riparo, potrebbe essere stato un riparo naturale. Ok, adesso amici dei custodi del murio, quindi io finisco il video così. Vi lascio anche oggi con le immagini emozionanti di questa straordinaria sepoltura. Costruita appunto laddove la roccia era più tenera, loro sono riusciti a creare quello che adesso a noi ci fa piacere sempre e ammirare, ma ricordiamoci pur sempre che per loro era un luogo di sepoltura. Amici dei custodi del memoria, un caro saluto, ciao a tutti!